bentornati in un nuovo tutorial su wordpress oggi vi mostro qualcosa di semplice domanda ti piace sto sito si no forse questo è un plugin di wordpress che permette di ottenere delle questioni delle statistiche a riguardo il nostro sito oppure altri temi ce ne sono molti questo è il più semplice che abbia trovato si può appunto generare delle questioni delle statistiche tipo questo esempio banale ti piace sto sito si no forse fine del sondaggio posso creare dei sondaggi interattivi va bene andiamo subito sulla nostra bacheca il plugin in questione si chiama ve lo mostro subito il plugin in questione che sto utilizziando si chiama questions gratuito come sempre andiamo a verificare velocemente come funziona comparerà qui sul sulla barra sinistra sondaggi io ne ho già creati due aggiungo un nuovo sondaggio titolo del sondaggio test tutorial qui semplicemente posso trascinarmi sulla mia sinistra al centro una scelta 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 multipla il tipo insomma di il tipo di sondaggio che voglio ottenere cancello questo torno di nuovo giungo nuovo sondaggio scusate il tutorial mi trascino scelta multipla apro qui che domanda vi piace questo tutorial ad esempio solo un esempio aggiungo la risposta si aggiungo la risposta no forse è così dicendo qui si può altra impostazione lista dei partecipanti tutti i visitori del sito tutti gli iscritti al sito possono partecipare solo iscritti e selezionati possono partecipare nessuna restrizione qui posso anche settare quando deve incominciare il sondaggio faccio partire dal primo maggio fino al 30 di maggio lo pubblico qui posso ottenere anche mostro risultati alla fine del sondaggio vabbè lo posso anche mostrare funziona in duplica sondaggio inviti ai partecipanti rinviti ai partecipanti lo pubblico di nuovo aggiorna il nostro sondaggio è raggiungibile sotto questo link eccolo qui vi piace questo tutorial la risposta sinceramente è sì fine sondaggio come vedete qui ho un grafico delle risposte dei risultati niente per oggi è tutto spero che sia stato utile come spiegavo è un plugin interessante per creare dei sondaggi come vedete qui ne ho già creati alcuni si possono modificare niente spero di stato utile ci vediamo al prossimo tutorial di wordpress con eventualmente un nuovo plugin ci vediamo al prossimo episodio